Il presidente francese Emmanuel Macron si dice certo che ormai vi sia la possibilità di far progredire i negoziati di pace fra Russia e Ucraina. Dopo aver incontrato sia il premier russo Putin che il presidente ucraino Zelensky, ha detto anche di credere alla possibilità di soluzioni pratiche concrete per una de-escalation durevole dell'attenzione. Il presidente francese vede negli accordi di Minsk del 2015 l'unico percorso per costruire la pace e si è detto determinato a perseguire assieme alla Germania gli sforzi di mediazione fra Russia e Ucraina. Grazie a tutti.